Il compagno al culmine di una lite iniziata tra le mura domestiche e poi proseguita per strada, un nuovo caso di violenza nei confronti di una donna scuote la città di Andria dopo le terribili immagini che solo 48 ore prima hanno immortalato un giovane 29enne colpire in maniera brutale la propria fidanzata nei pressi dell'ospedale cittadino. Ieri pomeriggio la polizia è intervenuta in un bar di via Regina Margherita dove una donna aveva trovato riparo per sfuggire alla furia del proprio compagno, il pregiudicato Nicola Quacquarelli. L'intervento di alcuni passanti ha evitato che la lite tra i due conviventi potesse degenerare riportando l'uomo alla calma. La donna ha raccontato che le violenze nei suoi confronti erano cominciate la mattina quando il suo compagno ha iniziato a picchiarla arrivando a scagliarle addosso una sedia di legno incurante della presenza della figlia minorenne di lei. La stessa giovane avrebbe subito dei colpi nel tentativo di sottrarre la madre dalle percosse. La donna ha spiegato di vivere da anni una situazione di soggezione psicologica nei confronti del suo compagno non trovando il coraggio di denunciare le violenze a cui la sottoponeva per la paura di subire ritorsioni o che potesse accadere qualcosa dispiacevole alla figlia minorenne avuta da una precedente relazione. La polizia ha arrestato Nicola Quacquarelli già in libertà vigilata per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del PM di turno della procura di Trani Alessio Marangelli l'uomo è stato trasferito in carcere.